Qualche anno fa essere presente a un convegno come questo per me sarebbe stato molto strano perché io come chirurgo generale prima e vascolare poi difficilmente mi occupavo all'inizio in modo specifico delle lesioni da pressione. Il compito essenziale per il chirurgo vascolare è in genere quello di salvare il salvataggio d'arto si dice dalla amputazione nel caso di un'arteriopatia ostruttiva cronica magari diabetica o quello di far guarire delle lesioni come quella che vedete in questo caso che sono conseguenti a un'insufficienza venosa cronica in sintesi a una sindrome post tromboflebitica in paziente con varici degli arti inferiori. Di questo mi sono occupato all'inizio e devo dire che i risultati positivi che mi hanno portato a cercare sempre soluzioni per fare una guarigione per ottenere una guarigione più rapida poi alla fine si sono tradotti in una estensione delle applicazioni delle medicazioni cosiddette avanzate che prendevamo diciamo in carico per questi pazienti tant'è vero che quando magari un paziente operato per un aneurisma aveva una descenza di una ferita chirurgica come quella che vedete trattarlo con le medicazioni avanzate ci ha portato a risoluzione del problema in tempi decisamente più rapidi di quelli che si avevano una volta con le medicazioni tradizionali. Quindi ci siamo lanciati sul piede diabetico sempre competenza di chirurgo vascolare oltre che dell'endocrinologo e diabetologo e vedete qui un caso clamoroso di flemmone del piede diabetico che è stato praticamente aperto al libro e risolto con le medicazioni avanzate o in quest'altro caso una lesione plantare sull'alluce in un paziente diabetico con gotta quindi all'interno di quella lesione si intravedono proprio i cristalli di acido urico. Ma a questo punto anche noi abbiamo portato dei pazienti ad avere delle lesioni da decubito e quindi anche quelli ho cominciato a trattare e vedete in questo caso una lesione calcaneare anche se parcellare limitata con una necrosi evidente che è stata poi trattata ed è risolta rapidamente e poi la voce si è sparsa un pochettino l'abbiamo provocata noi anche queste piaghe cosiddette da decubito l'ambulatorio di chirurgia vascolare è a pochi piani di distanza dall'unità spinale si sparge la voce e parlando con i colleghi oltre a fare gli ecodopper per valutare la vascularizzazione arteriosa e venosa degli arti inferiori in pazienti destinati a riabilitazione cercando di ridurre i rischi collegati alle trombosi venose profonde ad esempio è venuto fuori anche una collaborazione su lesioni tipo questa sacrale che vedete risolta in questo caso in tempi molto brevi diciamo in circa quattro settimane a questo punto io prendo quanto è stato anticipato dai miei colleghi prima la dottoressa cianfrocca che ci ha parlato dell'uso e abuso di antibiotici e il dottor massone che ha parlato del dei microbi che convivono con noi il problema è che quindi l'ulcera da pressione che poi alla fine è comunque un'ulcera ischemica quindi su base vascolare è la pressione della pelle sulle sporgenze osse sulle silenze osse provocarla praticamente apre una porta vedete nella figura vicino alle frecce gialla c'è la porta santa che viene aperta dagli inservienti del vaticano e questa indica molto bene secondo me la caduta di barriera la apertura ai germi che vivono nel mondo che ci circonda questo l'abbiamo sempre saputo però pensavamo che questi microbi all'inizio fossero un po' organi liberi un po' come il plankton nell'oceano in realtà non è così lo vedremo fra poco questi germi entranto dentro vedete che sulla vostra destra fanno vedere chiaramente come le lesioni si possono gradualmente prima contaminare poi colonizzare e infine infettare nello schemino in basso credo quegli ragnetti disegnati che sono i microbi fanno capire molto bene la differenza fra questi diversi stadi di interrelazione con i germi del mondo che ci circondano questi germi in realtà non vivono liberi come il plankton ma fanno dei veri e propri biofilme biofilme sono dei condomini nei quali batteri tanti batteri il collega prima ha detto 300 400 famiglie diverse di batteri ma anche virus anche funghi coesistono proteggendosi con una specie di barriera che chiamiamo glicocalice che praticamente li rende impermeabili all'aggressione del sistema immunitario e quindi fanno un po' una manovra che in termini fiscali chiameremo illusione eludono il sistema immunitario e questo naturalmente rende chiaramente il concetto che questa flora batterica da combattere è da combattere tutta ecco perché teoricamente se noi pensiamo che questi germi si moltiplicano dentro la ferita addirittura possono diffondersi attraverso la via ematica e linfatica e dare una sepsi generalizzata in realtà ci verrebbe da dire sì dobbiamo eliminarli bombe atomiche bombe a mano contro questi diciamo pericolosi killer in realtà è vero che questo aggrava la situazione locale perché più batteri ci sono compare l'infezione quando superano i 100.000 per grammo di tessuto è chiaro che più l'infiammazione diventa importante un processo fisiologico quello dell'infiammazione che favorisce in genere la guarigione delle ferite ma quando si allunga la ritarda e questo porta a formare tanto il sudato e a macerare i bordi delle lesioni quindi a questo punto giù con gli antibiotici in grandi quantità abbiamo visto come l'italia sia fra diciamo le nazioni dell'europa dove c'è una forte uso e direi di abuso di antibiotici e qui veniamo invece a quello che ha detto prima il dottor massone a una scoperta che ormai data circa 60 anni cioè il dottor lederberg prese il premio nobel nel 1958 per le sue ricerche in microbiologia sui batteri e in queste ricerche individuò quello che oggi viene chiamato il microbioma o microbiota come ha detto prima massone che praticamente è un complesso ecosistema uomo batteri in cui l'uomo rappresenta la parte più piccola non in peso ma certamente in quantità di cellule tant'è vero che approssimativamente il 99 per cento del corredo genetico è di origine batterica ma la cosa interessante è che questo microbioma si modifica in funzione di tante cose di quello che mangiamo ad esempio dell'attività fisica che svolgiamo delle medicine che assumiamo e la biodiversità di questo microbioma oggi viene associata con la comparsa di tante malattie una per tutte però questa ancora è un'illazione da confermare probabilmente però è così per esempio la placca dentale è un esempio di biofilm è un esempio di biofilm e di quindi localizzazione in quella sede di batteri potenzialmente patogeni tant'è vero che ci sono dei lavori che cominciano a dimostrare come questi batteri possono poi essere responsabili di ictus possono essere responsabili di infarti perché producono delle sostanze simili al fibrinogeno che favoriscono la coagulazione del sangue endovascolare quindi capite quanto è importante questo rapporto con i batteri e quanto è importante discernere fra quelli cosiddetti buoni tra virgolette e quelli aggressivi cattivi questo è quindi il primo messaggio da portare a casa vanno combattuti i batteri sì ma non tutti quindi non si deve abusare degli antibiotici sicuramente è importante fare un esame un tampone della lesione in questo caso della lesione da pressione per individuare quale è il batterio responsabile dell'infezione solo dell'infezione non della contaminazione o della colonizzazione e quindi è importante la conta delle cellule delle colonie batteriche soltanto in questo modo si può dare l'antibiotico giusto testato su terreno di cultura a complicare ancora la vita o meglio a migliorarcela c'è la rivoluzione sul Wunker la filosofia di trattamento delle ferite basato su un principio che si fa risalire come padre al dottor George Winter un urologo di professione che si era occupato però in un dipartimento sperimentale dello studio della guarigione di queste ferite lui riuscì a dimostrare pubblicandolo nel 1962 su Nature riuscì a dimostrare che le ferite provocate su un maialini guarivano decisamente più rapidamente se mantenute in ambiente umido piuttosto che secco questo è un dato che ormai compare come vedete qui anche su wikipedia basta fare una banale ricerca google e viene fuori ma praticamente Winter che cosa diceva diceva una cosa che tutto sommato dovremmo sapere noi avremmo sempre dovuto sapere sono passati 50 anni prima che abbiamo accettato questo concetto che lui ci diceva perché perché la vita nasce nel liquido amniotico perché le cellule umane nel periodo fetale sono costituite il 90 per cento d'acqua ma anche le cellule umane dell'uomo adulto contengono un 70 75 per cento d'acqua quindi è impensabile che per far guarire le ferite rapidamente noi utilizziamo un ambiente secco dobbiamo mantenere l'ambiente umido però al giusto grado di umidità e questa è la differenza fra le medicazioni cosiddette avanzate le medicazioni tradizionali che qui vedete riportata in una tambella in pratica la rivoluzione del bunker è questa cioè bisogna gestire l'essudato conseguente all'infiammazione che è un processo naturale che va rispettato all'interno della ferita per farla guarire questo ci spiega per esempio un altro piccolo messaggino da lanciare come usare antibiotici avevo detto in eccesso è sbagliato ma anche usare antinfiammatori è sbagliato cortisone ad esempio è meglio non usarlo perché sappiamo che ritarda la guarigione delle ferite ma perché lo fa perché riduce la fase infiammatoria del processo di wound healing la guarigione passa attraverso questo e noi dobbiamo poter gestire l'essudato che si forma durante la fase infiammatoria per curare meglio queste ferite poi naturalmente se noi manteniamo il giusto ambiente umido e non facciamo macerare le ferite accade anche che queste medicazioni sono vantaggiose perché si rimuovono senza provocare trauma al paziente non aderiscono alla ferita perché possono essere cambiate anche dopo più giorni a questo punto la rivoluzione del wound care va inquadrata in un attimo e allora quando si inquadra si fa un primo triage questo è diciamo il sistema più semplice di inquadramento la stabilizione che è stata stabilita dalla wound care society che praticamente ha colori è intuitiva e rapida ci fa capire se ci stiamo muovendo bene nel trattamento della lesione vedete sono tre gli stati fondamentali il rosso il giallo e il nero ognuno ha un significato che è riportato lì il rosso è un significato più positivo cioè presente sul fondo della lesione un tessuto di granulazione vivo quindi prelude alla guarigione poi il giallo invece significa che siamo o in una fase in cui l'infiammazione è ancora importante si forma molto sluff dicono gli inglesi cioè molta fibrina lì localmente e quindi allora lì magari bisogna rimuoverla un po di questa fibrina o addirittura il giallo può indicare che c'è una necrosi dei tessuti più profondi per esempio sotto cutaneo allora lì bisogna fare asportazione di questi tessuti necrotici il nero è la situazione peggiore perché significa che c'è tessuto morto che c'è necrosi poi si aggiungono a questi che sono i colori di base altri due colori che sono il verde e il rosa il verde che indica la presenza di per esempio pseudomonas nella ferita voi sapete che dà questo caratteristico colore verde e il rosa che invece indica che la cute si sta riformando sopra quel letto di tessuto di granulazione che abbiamo visto in questa diapositiva è chiaro che adesso io ho fatto vedere sia in diapositive sia ho detto a parole che i colori sono questi però in realtà ci sono varie fasi intermedie allora come regolarsi bisogna sempre adattarsi a quella che è la situazione peggiore quindi se abbiamo una ferita che ha del giallo e del rosso non è una ferita di un romanista ma è una ferita nella quale praticamente c'è ancora o troppo essudato oppure c'è troppo tessuto ancora necrotico da rimuovere quindi indicare sempre il colore che dà diciamo il quadro più grave tutto questo ci consente in poche parole di trasmettere il messaggio alle persone che medicano il paziente e che si passano le consegne di come sta andando la ferita perché se io so che quella ferita è come nelle prime ipotesi è rossa vuol dire che sta andando bene se la trovo giallo rosso se la trovo verde o se la trovo nera vuol dire che qualcosa non va e va cambiato la condotta terapeutica un altro elemento importante io gestisco un ambulatorio nel quale vengono pazienti con ferite difficili che non sono soltanto queste da lesione ma per esempio quelle vascolari che dicevo prima la prima cosa che ti chiedono ma se ferite le dobbiamo lavare ora teoricamente noi dobbiamo dirgli attenzione perché se tu ti fai una doccia chiaramente non riguarda il paziente di cui ci occupiamo oggi ma lo dico per completezza se tu ti fai una doccia il sapone sporco che scende dalle spalle dal torace eccetera può andare a finire nella tua ferita di gamba questo non è positivo quindi o bisogna studiare un sistema di impermeabilizzazione che oggi esiste oppure è meglio evitarla lavati a pezzi si dice in realtà tutte le ferite quindi anche quelle del paziente con lesione midolare e lesione da decubito devono essere lavate si parla di wound cleansing nel wound care e questo lavaggio mentre una volta si faceva con l'acqua di mare di fiume di sorgente eccetera perché erano acque allora pulite oggi è meglio non farle con quelle acque mentre una volta quando io andavo a lezione all'università il professore di patologia chirurgica mi diceva insapona bene col sapone di marsiglia la ferita e poi lavala sotto il rubinetto beh questo è un concetto forse un po' superato perché questo sapone di marsiglia per quanto sia neutro e quindi meno aggressivo di tanti altri però va a incidere pesantemente sulla rimozione del film idrolipidico che c'è sulla pelle sana per il lesionale e sappiamo quanto è importante la pelle l'acute per il lesionale per la guarigione delle ferite che avviene sempre dalla periferia verso il centro per cui ho indicato qui la possibilità di farsi preparare per esempio in farmacia dei prodotti galenici che contengono quantità minime di tensioattivi ma soprattutto quei tensioattivi che possono essere rimossi facilmente con il lavaggio con soluzione fisiologica le ferite vanno lavate con la soluzione fisiologica occorre ingerlattato poi c'era il problema delle ferite che cominciavano avere quei colori strani per esempio verde ecco in questi casi una volta io dico scherzando si entrava in cucina ci cominciavamo a mettere il sale ci cominciavamo a mettere lo zucchero ci cominciavamo a mettere l'aceto tutte cose che hanno una loro validità pensiamo solo all'acetico apre chiudo una parentesi acido acetico si usa per esempio contro lo pseudomonas ancora oggi fare un impacco di acido acetico in realtà però direi che questo oggi lo dovremmo superare grazie alla possibilità di usare dei prodotti che messi localmente possano consentirci di detergere le ferite magari con impacchi di pochi minuti per poi essere rimossi abbondantemente con il lavaggio comunque si usano li ho messo tre prodotti che hanno la caratteristica di essere particolarmente aggressivi contro i germi di rispettare i tessuti viventi di granulazione per esempio di riparazione e di mantenere un ph giusto voi sapete che a livello cutaneo il ph deve essere acido poi se questo non basta si passa alla wound belt preparation diciamo noi oggi chi si occupa di wound care ha questo termine che sta a indicare un debridement una pulizia di questa lesione che può essere fatta a mano con vistori cucchiai curette e quant'altro che sono a disposizione più o meno di tutti oppure nelle cose più sofisticate che possiamo fare utilizzare l'ultrasuoni utilizzare il laser utilizzare il bisturi ad acqua tutto questo consente di portare via tutto quel tessuto patologico che abbiamo indicato prima rimuovere i biofilm soprattutto a questo punto fatta la pulizia di questa ferita come abbiamo detto si mettono le medicazioni avanzate io qui ho portato vi ho messo questi pallini queste faccine che sono parte di quel semaforo che avete visto prima no quindi per esempio quando c'è nero vuol dire necrosi quando c'è giallo vuol dire sudazione o tessuto ancora necrotico ecco vedete cominciamo a usare degli idrogel cominciamo a usare degli idrocolloidi per rimuovere lentamente senza far danno la necrosi possiamo usare degli alginati in polvere per fare la stessa cosa se invece vedete sotto faccina rossa e faccina rosa la ferita va meglio possiamo usare delle garze contenenti acido ialuronico o anche delle medicazioni tessuto non tessuto di acido ialuronico è difficile parlare senza di rinomi ma così devo fare poi esistono dei sagomati che si possono mettere a livello del sacro o a livello del calcaneo come vedete che sono a base di idrocolloidi o di schiume di poliuretano e nel momento in cui abbiamo una ferita abbastanza viva nella quale abbiamo tolto tutto il tessuto necrotico ma che ha una fase di rallentamento di stallo della guarigione possiamo usare delle matrici che modulano le proteasi proteasi sono gli enzimi non posso dire troppe cose se non vado e già credo di esserci andato fuori quei tempi vanno mantenute nella quantità giusta allora queste modulatrici di proteasi fanno questo se usando questi però a un certo punto compare del verde questi possono essere usati addizionati all'argento che è il disinfettante vero e proprio delle ferite quando l'infezione è importante l'essudato aumenta possiamo usare le idrofibre all'argento se l'essudato è ancora maggiore c'è infezione possiamo usare gli alginati di argento tutto questo che cosa sta a significare significa che ogni stadio della ferita ha l'indicazione a una medicazione particolare che può essere costosa anzi spesso lo è anche perché viene venduta in confezioni multiple ma anche se uno c'ha una feritina piccola gli danno una confezione da dieci pezzi che ci tratta tutto il corpo umano e quindi a questo punto benvenga delle medicazioni che è una di queste noi l'abbiamo testata negli ultimi cinque anni in ospedale grazie alla sensibilità di quella che l'ha inventata che è la dottoressa carnevali se volete cercare in internet che ha inventato questo prodotto miracoloso che anche claudio ha avuto modo di vedere che si chiama in termine diciamo ministero della salute mix 557 così non vi ho detto il nome del prodotto questo come vedete dalle faccine si può mettere in qualsiasi fase della lesione quindi diventa importante perché risparmia il paziente può fare la medicazione anche da solo spruzzando questo prodotto tutto questo adesso andiamo a concludere dicendo anche che ovviamente esistono anche altri presidi che però sono piuttosto ospedalieri diventano di difficile gestione sul territorio soltanto in alcuni casi è possibile come l'utilizzazione del prp del gel piastrinico o la utilizzazione della vacuum therapy che vedete può portare una lesione come questa dopo una settimana a diventare come questa e alcuni piccoli flash per concludere miti da sfatare la garza iodoformica si è sempre usata in quantità industriale non si dovrebbe fare perché è istiolesiva perché può addirittura avere una tossicità per il sistema nervoso non si devono usare prodotti tipo antibiotici locali per il discorso che abbiamo fatto prima sui biofilm non fanno niente intossicano solo il paziente specialmente poi si sono addizionate al cortisone come dall'esempio coperto da quel bel nome che tutti conoscete che messo localmente non fa altro che ritardare la fase infiammatoria e quindi la guarigione della ferita inutile l'utilizzazione di creme o di polveri cicatrizzanti che fornano una specie di tappo che uno poi deve rimuovere altrimenti la ferita non guarisce per quanto riguarda gli antibiotici ho già detto che è bene darli per via sistemica quindi orale intramuscolare o endovenosa e che questo va fatto però solo e soltanto su un tampone che ci indica il germe che c'è dentro e a quale antibiotico è sensibile. Dico questo perché e qui stavo per concludere sono andato un po' troppo velocemente ancora oggi ecco a me è capitato di vedere questa ricetta vedete del 16 novembre 2017 si cominciano a acquisire alcuni messaggi che noi che ci occupiamo divonchardiamo e cioè che è bene usare un idrogel è bene usare soluzioni fisiologiche è bene usare delle garze grasse eccetera però ci sono degli specialisti ho cancellato opportunamente il nome che ancora segnano l'utilizzazione di acqua ossigenata e di acido borico sulle ferite cosa che è assolutamente sbagliata. Concludo e questo proprio giuro che ho finito con questa garellata finale che indica questa collaborazione con l'unità spinale che è stata basata sull'utilizzazione di queste medicazioni avanzate che avete visto sul PRP che abbiamo associato all'acido ialuronico accelerando molto i tempi di guarigione e su questo mix 557. Abbiamo fatto una specie di stadiazione seguendo la classificazione NPUAP e naturalmente in ognuna di queste stadiazioni vado velocemente inutile che vi tedio con questo abbiamo utilizzato sistemi diversi anche spesso in associazione come il PRP con l'acido ialuronico o il mix 557 associato alla vacuum therapy. E qui alcuni esempi conclusivi. La vedete? Tra l'altro sembra proprio la dimostrazione di quella classificazione per stadiazione a colori. La lesione calcanale nera che diventa rossa dopo la rimozione. Lì abbiamo messo una matrice dermica che ha favorito la crescita di altro tessuto e infine la ipidelizzazione fase rosa. In basso vedete invece una delle lesioni frutto di un ricovero in un ambiente di cardiologia di alto livello con lesioni calcaneari. Vedete che possono anche essere rimosse perché si usano medicazioni giuste e alla fine possono guarire. E nello stesso tempo qui vediamo, visto che parliamo dell'unità spinale, le lesioni più frequenti che sono le lesioni sacrali. Vedete un quarto stadio inizialmente che pian piano si riduce fino a guarire. Un terzo stadio che guarisce più rapidamente utilizzando in questo caso il gel piastrinico. Questo è un altro caso in cui le situazioni sono un pochino più patologiche. In basso vedete delle lesioni schiatiche associate a lesioni sacrali. Ma la cosa importante è che c'è tutta una sofferenza della cute perilesionale. In questo caso è difficile far guarire completamente il paziente, però vedete nell'ultima diapositiva a destra che tutto è migliorato e questo ci può consentire di dare, vi passiamo la palla al collega Borgognone, al chirurgo plastico un paziente che anziché avere tre lesioni ce ne ha una sola e ha avuto un miglioramento della cute perilesionale. Quindi rimane che il gold standard per il trattamento delle lesioni da decubito è sicuramente la chirurgia plastica, ve ne parlerà appunto il collega, però avete visto come le medicazioni avanzate e la conoscenza della fisiopatologia del wound healing ci può aiutare a ridurre i problemi e qualche volta a risolverli. Grazie.